Sono Flora Bernardi e lavoro come progettista europea presso la cooperativa sociale Itaca che nasce nel 1992 a Pordenone per promuovere il benessere di minori, anziani, giovani e adulti. Siamo capofila di due progetti europei Change e Crosscare 2.0. Change finanziato dal programma CERV ha come obiettivo contrastare ogni forma di violenza di genere. Crosscare 2.0 è un progetto interreg Italia e Slovenia e ha come obiettivo fornire risposte innovative al problema dell'invecchiamento della popolazione. Grazie ai progetti finanziati dall'Unione Europea abbiamo potuto ampliare le reti e partenariati internazionali e sperimentare nuovi approcci e pratiche che poi abbiamo potuto trasferire e adattare all'interno dei nostri servizi. Ci auguriamo di continuare a sperimentare grazie ai programmi dell'Unione Europea.